Decisa data e orario di chiusura del viadotto Sente, uno dei più alti e lunghi d'Europa, che unisce il Molise all'Abruzzo. Verrà sbarrato al traffico il giorno 18, martedì prossimo, alle ore 13. Il tempo per provincia di Sernia e Anas di predisporre la segnaletica per il percorso alternativo. Intanto l'Abruzzo fa sentire la sua voce. Chiudere il viadotto significa impedire a migliaia di abruzzesi della provincia di Chieti di usufruire dell'ospedale e delle scuole di Agnone. Un vero e proprio disastro, come conferma il presidente Mario Pupillo, che chiede l'intervento urgente dell'Anas. Chiaramente l'altovastese, che è già devastato di suo per una viabilità difficilissima, deve affrontare questo problema con un percorso alternativo molto complesso, che sicuramente penalizza quei servizi che Agnone e la provincia di Sernia riescono a dare. In particolare, mi riferisco all'ospedale, alle scuole. Quindi un danno economico, sociale, culturale che non è sopportabile in un'economia già difficile dei nostri territori. Le province in questi anni hanno vissuto delle situazioni di taglio incomprensibili e quindi questo viadotto non può rimanere nella gestione delle province sia di Isernia o di Chieti. Un'opera fatta dall'Anas deve tornare all'Anas perché è un viadotto tra i più importanti d'Europa, più complesso per la manutenzione e quindi noi chiederemo nei prossimi giorni un incontro con le due regioni e con l'Anas assolutamente perché riteniamo che questo viadotto debba essere riconsegnato all'Anas. Stessa tensione e preoccupazione anche in casa degli agnonesi, dove un centro con già mille problemi si prepara a subire un altro colpo mortale, il mancato arrivo di migliaia di persone che comunque venivano a spendere i loro soldi nella cittadina alto molisana. Anche qui problemi seri. La nostra attenzione va nei riguardi non solo dell'ospedale in quanto struttura di servizio per chi intendo o chi deve venire qui, ma è anche un problema strettamente legato alla sostenibilità della vita scolastica sia per studenti sia per docenti e personale scolastico in genere che si muove o in entrata verso Agnone o da Agnone verso altri centri.